buongiorno signori buongiorno a tutti e bentornati qui in un nuovo video come state spero bene ma soprattutto dovete essere carichi perché oggi a distanza probabilmente quasi di mesi vi rispondo a una delle domande che mi fate più spesso dal momento in cui pubblica il video dove non era proprio d'accordo con hype e con il loro servizio ovvero che carta utilizzo se sono minorenne e dopo un po di mie ricerche e un po di utilizzo quindi mi sono preparato per questo video sono giunto a una conclusione per voi più che conclusione un consiglio quindi oggi sono qui a consigliarvi una carta che secondo me è adatta per i minori ovvero flowy sicuramente l'avrete sentita spesso se non l'avete sentita è una banca che deriva dal gruppo mediolanum quindi comunque stiamo parlando di una solidità e questa è stata una delle motivazioni per cui ho scelto flowy e soprattutto punta al green trovata di marketing fantastica ma anche una cosa rispettabile perché comunque la figata secondo me di questa carta è che ci fa vedere tutte le nostre emissioni derivanti dalle transazioni perché ogni pagamento ogni cosa che facciamo a un'emissione ce lo calcolerà e a seconda di quante emissioni gli utenti appunto emettono pianterà alberi per contrastare quelle emissioni secondo me è una cosa molto molto innovativa molto carina è una travata di marketing fantastica complimenti questa ve la approvo appieno però perché vi sto consigliando flowy intanto l'ho scaricato anch'io ce l'ho qui l'applicazione è bellissima a parer mio vi faccio vedere l'interfaccia così brevemente ma è semplicissima partiamo dal fatto che per registrarvi a flowy vi servirà se siete minorenni giustamente il permesso dei genitori però comunque l'età minima per potersi registrare e 12 anni registrarvi giustamente dovrete inserire vari dati genitori assieme a loro e procedere all'iscrizione assieme e soprattutto se utilizzate il codice che mi metto in descrizione per iscrivervi riceverete 5 euro di buono amazon in realtà 50 crediti che sono convertibili poi in buoni amazon o in altre tantissime cose ed ora passiamo a uno che secondo me è uno svantaggio ma allo stesso tempo nemmeno troppo ovvero il costo della carta per aprire il conto flowy è totalmente gratuito anche le transazioni quindi pagamenti tutte queste cose qui sono gratuiti l'unica cosa per ricaricare la carta la prima ricarica è totalmente gratuita e poi dalla seconda in avanti costa un euro quindi sempre più conveniente di altri servizi ma il punto è la carta fisica costa 15 euro un costo abbastanza elevato perché sostanzialmente competitor o hanno un costo più basso o addirittura non ce l'hanno però voi potrete comunque aprire il conto e utilizzare la carta virtuale senza alcun pagamento quindi non è per forza necessaria se dovete fare gli acquisti in un negozio ad esempio lo collegate al vostro telefono utilizzate apple pay ad esempio google google pay e potete semplicemente pagare quindi non vi occorre per forza avere la carta anzi se pensate una filosofia giusta perché vi scoraggia dall'acquisto della carta perché ok che la carta in legno ma sia produrla che il chip che spedirla emette emissioni quindi alla fine è tutto in relazione al loro modo di pensare o comunque quello che vogliono trasmetterci quindi secondo me questo non è un problema è vero che altre carte competitor sono gratuite ma lasciamo perdere cosa hanno combinato certi poi naturalmente ci sono sempre altre variabili però come dicevo se guardate in questo canale ho parlato di altri servizi e di uno in particolare ho avuto un pochino di problemi e di ripensamenti mentre stavo montando questo video mi sono accorto di aver tralasciato un paio di informazioni quindi eccomi qui la prima è come ci si scrive soprattutto che dati richiede in realtà è come qualsiasi altro conto quindi molto semplicemente dal link in descrizione o comunque dal play store scaricate l'applicazione inserite i vostri dati se siete minorenni vi farà inserire anche quelli dei vostri genitori fate la foto ai vostri documenti in automatico poi il sistema saprà controllarli mi raccomando fatele bene e dopo di che il sistema vi farà fare una verifica con la vostra fotocamera vi farà girare in varie posizioni che dice lui in modo tale da identificarvi e nel giro di un paio d'ore poi siete a posto invece per quanto riguarda la ricarica avete un vero e proprio iban su quella carta quindi la possibilità di fare e farvi bonifici cosa molto importante tra l'altro soprattutto per un conto di minorenni o che è incentrato più che altro per i minorenni ma in realtà aperto tutti e soprattutto potete ricaricare da altre prepagate da altre carte quindi senza problemi inserite i dati e effettuate già dall'applicazione di flowy la ricarica senza che vi spostate da casa come dicevo prima poi ci sarà un costo di un euro per transazione qualsiasi esso sia l'importo e niente spero adesso di aver detto tutto quello che c'era da dire e comunque secondo me questo di flowy è davvero un ottimo servizio soprattutto come già ho detto provenendo da una banca molto molto grande mi dà una sicurezza in più ci sono altri conti che ho testato che però sinceramente non mi trasmettono la stessa sicurezza e mi danno un pochino di dubbi sicuramente porterò altre alternative più avanti perché io non collaboro direttamente con flow quindi non ho interessi nel promuovere per forza il loro servizio anzi l'unica cosa ripeto c'è il link affiliato in descrizione ma è un affiliato che trovate il link amico che trovate nell'applicazione anche voi quindi è una cosa che hanno tutti sostanzialmente porterò altri servizi qua avanti in modo tale da darvi una vista più ampia anche se in realtà vi ho portato per primo quello che ritengo più valido anche perché ha una linea di pensiero che è nel futuro il green e secondo me questa non è assolutamente una cosa da sottovalutare poi naturalmente bisognerà vedere nel tempo come si comporterà questo servizio ormai ne sono passati i mesi da quando è online e continua tenere una stabilità nel loro servizio però bisogna vedere più avanti perché altri si sono rivelati molto molto buoni inizialmente man mano sono peggiorati a livelli smisurati non faccio nomi ma cercate sul canale che lo vedete quindi sostanzialmente io vi consiglio pieno questo servizio se siete minorenni mi raccomando chiedete il permesso ai vostri genitori che è fondamentale e spero che questi consigli questi video vi piacciono e se volete anche dei video su come magari risparmiare qualche soldino in più come fare qualche soldino se siete minorenni e cose simili cose che probabilmente arriveranno sul canale tenetevi pronti 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 un'altra parentesi che voglio fare essendo che in questo canale tanti di voi siete appassionati alle criptovalute a tutte queste cose qui purtroppo né flowy né altri conti sicuri che io conosco permettono lo scambio di criptovalute se siete minorenni quindi purtroppo o dovete chiedere ai vostri genitori di fare per voi l'account naturalmente devono darvi il consenso mi raccomando o dovete aspettare di diventare maggiorenni perché purtroppo né flowy né tanti altri conti vi permettono di fare questa cosa 90% i conti sicuri che praticamente parlano a meno quelli che conosco io che trattano il cambio di criptovalute sono tutti per maggiorenni quindi dovrete aspettare spero che questo video vi sia piaciuto spero che vi sia stato utile mi raccomando lasciate un mi piace per l'algoritmo di youtube scrivete un commento e ci vediamo a un prossimo video grazie mille per aver visto questo video soprattutto ripeto spero di esservi stato utile grazie mille per aver guardato il video